Abbiamo un menu internazionale, abbiamo insalata russa, abbiamo arosto di carne, abbiamo... Ha cucinato lei? Sì, anche io e ora dovrei tornare a fare, credo, polpetti. Pesce? Quest'anno, visto che sono in Italia, vorrei un attimo gustarmi la mia Italia, invece che andare sempre all'estero, perché all'estero non si vive il Capodanno così come lo si vive da noi qui in Italia, preferisco rimanere qui. I mestrini dunque prediligono la casa per il cenone di Capodanno, confermando un'indagine effettuata da Adico, secondo cui due su tre preferiscono il calore delle mura familiari. A differenza dell'anno precedente c'è però un aumento delle prenotazioni al ristorante. Abbiamo scelto un ariturismo perché c'è la possibilità di stare con i bambini, ci danno una stanza tutta per noi, i bambini hanno la necessità di giocare, di stare libri. E per iniziare il nuovo anno nel miglior modo possibile non deve mancare il rispetto delle tradizioni, come racconta l'esperto. Bisogna cominciare il primo de'anno con un indumento nuovo, mai messo prima e quindi mai provare, mai niente. Ti vedi, nel mio libro, Toccarsefero, uno degli aneddoti di quello che posso portare a mia vita è appunto il rosso. Siamo andati in un albergo in montagna, passando l'ultimo anno in sto albergo, per il giorno dopo andare a sciare, leggeremo fioi e fie. A un certo punto una fia mi stava a dire, ho messo in accorto, siamo da appuntamento in camera, mi so destirare sul letto il corpetto e queste belle mudande rosse, qua sigarette in bocca. Cosa sta, allora sta via, ho sentito batte a porta, ho detto, vieni vanti, sta qua, che ha aperto a porta, mi ha vantato e buttato le rosse, ma ora ti dà un'altra parte, che sarà la porta e dà via.